ciao a tutti ben trovati anche oggi useremo le mani al posto dei pennelli le tempere e un colore un po speciale guardate un po cosa c'è qua sul tavolo la schiuma da barba eccola spruzzata e poi andiamo dentro con le mani sentiamo la morbidezza seguiamo la musica le onde tutto va bene tutto fila liscio è importante far utilizzare le mani anche con sia con i bambini ma anche con gli anziani che hanno bisogno di contatto di morbidezza di sentire che tutto va bene tutto va liscio e poi magari scrivete sul vostro foglietto quali emozioni vi sono quali ricordi vi sono arrivati che emozioni e lo mettiamo nel nostro vasetto della felicità vi ricordate semplicemente sentire ascoltare e muovere le mani dopo che ho esplorato molto la schiuma con le mani i polpastrelli posso anche aggiungere un po di colore io ho scelto il blu perché mi viene in un mare delle onde vedete come si colora poi in questo blu posso disegnare delle onde oppure posso disegnare un sole un fiore blu e poi prendo il foglio e lo stampo voilà appoggio adesso guardate che ho le mani tutte belle piene alzo ecco il mio fiore grazie grazie grazie